Joe Biden è partito dall'Arabia Saudita per tornare negli Stati Uniti, concludendo così il suo primo viaggio da presidente in Medio Oriente, con tappa anche in Israele e nei territori palestinesi. Si rinsaldano le relazioni fra Riad e Washington, anche se stride l'incontro col principe ereditario Mohamed Ben Salmane, accusato di essere il mandante dell'assassinio del giornalista Jamal Khazoggi. Mi sta diventando chiarissima l'interconnessione fra gli interessi americani e i successi del Medio Oriente. Non ci allontaneremo. Non lasceremo che il nostro vuoto venga riempito da Cina, Russia o Iran. Rafforzeremo una leadership americana attiva, ha detto Biden. Ben Salmane ha risposto di non essere responsabile dell'uccesione nel 2018 del giornalista collaboratore del Washington Post, ma l'asse dell'incontro ha puntato su convenienze reciproche. Biden porta a casa la promessa dell'Arabia Saudita di aumentare del 50% la produzione di petrolio per favorirne l'abbassamento del prezzo. Con i sondaggi poco incoraggianti e le elezioni di metà mandato alle porte, il presidente a stelle strisce deve contenere la crisi interna e quella mondiale dei prezzi del carburante. Peraltro ha promesso un miliardo di dollari a sostegno della sicurezza alimentare in Medio Oriente e Nord Africa. Peraltro ha promesso un miliardo di dollari a sostegno della sicurezza del prezzo.